A Teramo i residenti del popoloso quartiere di Colleparco tornano a denunciare la pericolosità del dissesto idrogeologico all'incrocio fra le vie Memmingen, Montauti e Savorini. Il movimento franoso coinvolge il primo tratto della strada che collega Colleparco a Villa Mosca e da anni rappresenta un cuccio per chi vive nella zona. Qualche anno fa furono fatti dei lavori ma questi lavori dopo due o tre anni non sono serviti a nulla perché alla fine la frana è ricominciata più grande di prima e adesso noi ci chiediamo, chiediamo all'amministrazione, chiediamo a chi di dovere a che punto sta, a che punto sta la documentazione che è stata depositata in Procura della Repubblica, si dice Procura della Repubblica, vogliamo vedere, vogliamo sapere almeno a che punto sta perché se in Procura ci metteranno altri 3, 4, 5 anni a sviluppare questa cosa noi per 4, 5 anni non avremo assolutamente risoluzione del problema. Il problema grande è che è molto pericoloso perché si è allargato il fronte e non è illuminato, non è evidenziato che c'è una frana e lì le persone di notte passano a tutta velocità e noi sappiamo benissimo che là si rischia e si rischia molto, soprattutto i giovani con i motorini, non è illuminata per niente dunque bisogna stare molto attenti. Dunque oltre al problema della strada in quel tratto molto trafficato c'è anche un problema di illuminazione pubblica, questo nonostante le rassicurazioni da parte dell'amministrazione sulla prossima installazione di pali, mentre gli interventi sulla frana sarebbero interdetti da un contenzioso giudiziario ancora aperto fra lente e chi anni fa fece i lavori di consolidamento. I lavori che sono stati fatti sono stati fatti bene? No, sicuramente no perché la frana è ricominciata, qualcuno doveva verificare se i lavori andavano bene, venivano fatti bene. Sta a fianco alle case, a fianco a dei palazzoni alti, le famose cupole di Colleparco sta a fianco lì, ma il problema è lì e poi se si sarà chiuso di nuovo passeranno anni e il Colleparco non può permettersi come quartiere universitario di chiudere delle strade così, perché non si sa a che punto sta la denuncia, a che punto sta la documentazione. Dobbiamo, bisogna verificare, bisogna fare delle indagini più approfondite per avere delle risposte, perché non è possibile che ogni volta che succeda qualcosa passino anni prima che si risolvi il problema.